E di sei morti e un ferito grave il tragico bilancio a causa di incidenti stradali avvenuto nella notte sulle strade della nostra regione. A Moscufo incontrata Pischerano sulla provinciale 59, strada che collega Loreto Prutino a Moscufo, a perdere la vita quattro persone tutte a bordo di un Audi A5 che presumibilmente a causa dell'alta velocità è finita contro un albero. Come potete vedere dalle immagini l'auto che viaggiava in direzione Moscufo ha improvvisamente tagliato la curva finendo la sua corsa contro un albero di Olmo fermandosi a pochi centimetri dalla recinzione di un'abitazione. L'impatto è stato violentissimo tant'è che il mezzo si è letteralmente spezzato in due. Ad accorgersi dell'incidente i residenti della zona che sentendo il violento impatto hanno inizialmente pensato ad una forte scossa di terremoto. Le vittime sono tutte della zona. Alla guida del mezzo c'era Adriano Sborgia 34enne di Moscufo. Insieme a lui c'era Etani Fabrizio e C'era Etani Simone, padre e figlio di Spoltore rispettivamente di 54 e 24 anni. Con loro Maurizio D'Agostino 50 anni di Pescara. Per i quattro non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Moscufo e Montesilvano e diversi mezzi dei Vigi del Fuoco e del 118. La seconda vittima, Cepagatti, incontrata a Ripattoni dove un quarantenne, Francesco Bacigalupi, residente a Loretta Prutino, a bordo del suo BMW è terminato fuoristrada in piena curva finendo la sua corsa sopra una pila di pedane Epal dopo aver incocciato violentemente una cunetta di cemento. Con lui viaggiava l'amico Borgoni Manolito, 35 anni, residente a Iesi, trasportato in serie condizioni all'ospedale civile di Pescara con l'eleambulanza. Lo schianto, secondo una prima ricostruzione, sembra essere avvenuto nella notte di ieri ma solo questa mattina, intorno alle 8, ci si è accorti del mezzo finito fuoristrada. Anche qui è stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco. Il terzo incidente stradale intorno a mezzanotte e mezza sulla strada provinciale 259, nel tratto di strada compreso tra Garrufo di Sant'Omero e Sant'Egidio alla Vibrata. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Honda Jets guidata da Francisco Ugo De Rita, 49 anni, di origine brasiliana, ma residente ad Ancarano. L'auto, giunta in prossimità della rotonda, ha tirato dritto, andandosi a schiantare violentemente contro un albero di un livo posto all'interno della stessa rotonda. Sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato, aiutando a tirar fuori dal mezzo, unitamente al personale sanitario, l'uomo dall'abitacolo dell'auto che è morto poco dopo sul posto. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Sant'Egidio alla Vibrata.